Un capotreno che attraversa i binari davanti ai ragazzi che escono da scuola, mentre è in arrivo un convoglio diretto a Piacenza. È accaduto a Voghera nei giorni scorsi, a spedire le immagini alla nostra redazione, è stato un pendolare che si trovava in stazione nei pressi del secondo binario ed è rimasto sconcertato dal comportamento diseducativo oltre che pericoloso dell'operatore ferroviario. Invece di dare il buon esempio ai ragazzi che tornavano da scuola, scrive il pendolare, questo è ciò che è successo. Così facendo, continua, si mette a serio rischio la sicurezza degli utenti che potrebbero decidere di imitare questo comportamento. Quest'anno sono stati diversi gli incidenti ferroviari, anche con esito tragico, che hanno visto coinvolti studenti sul nostro territorio e a sud di Milano.